Connessione mi ha contattato, mi ha proposto questa giornata informativa e direi quasi informativa con questi prodotti Yamaha. Ho accettato perché le mie conoscenze nel settore conferenza sono un po' limitate, quindi oltre a imparare novità sui prodotti e quant'altro anche qualche dritta che i tecnici sono stati in grado di darmi. Al momento tutto molto interessante direi, stiamo ancora approfondendo con i tecnici Yamaha qualità, non qualità, pregi, innovazioni dei prodotti e mi sto trovando molto bene. Con la nuova moto, quella a tre ruote e uno scooterone, lo so, sono due mondi completamente diversi ma anche quello del live e delle conferenze sono due mondi diversi che però li voglio provare tutti e due.